Ciao, in questo video andremo a vedere insieme la tier list per la patch 4.1 e ci sono stati un sacco di cambiamenti, dati i nuovi item da tank e tante piccole cose interessanti. Detto questo vi lascio la solita premessa, cioè che è la mia tier list, il mio punto di vista, che non è legge, che non vuol dire che quel champion è per forza Turbo Mega Brogan e quell'altro va super cagare. È come vedo io il meta, quello che provo nelle mie partite, quello che mi capita di vedere anche nel competitive, in casting e tante altre cose. Questo vuol dire, come sempre, tipo a me piace giocare Kyla anche se la metto in tier schifo e se voi siete dei Mastery God, bene così, è un punto di partenza per chi magari vuole scoprire determinati campioni. Detto questo non perdiamo altro tempo con le premesse e andiamo subito a vedere la Barrow Lane, che infatti qui abbiamo in cima la buona Gwen, perché sì, perché Gwen sta messa molto bene. Siamo in un meta dove ci sono tantissimi tank, gente anche ad carry tank, gente che va a costruire HP, resistenze, roba varia, e Gwen dice non importa. Danno in percentuale, danno puro, mi curo, sciotto, sono immune, insomma con quella varia, la spell che già conoscete. Quindi Gwen è ottimo campione per skillare in faccia tutti quanti e vincere le partite. Poi abbiamo Aatrox, sempre stabile, Fiora, che con i punti vitali, con le vite in percentuali, con l'Hullbreaker, lo splitting, il suo duel potential è veramente tanta roba e quindi ho deciso di farla salire un paio di posizioni. Camille, tantissima roba anche lei, Hullbreaker, splitta che è una meraviglia, se ne va, ritorna, chiude la gente nella sua maledettissima trappola, molto forte in top. Poi abbiamo Garen, baffato, Garen baffato senza senso, cioè un baffone enorme, cioè con la seconda abilità potete ridurre il danno del 70%. Se poi andate a considerare che lo andate a buildare con una build bella tankosa, credo di aver visto di recenti tipo Hullbreaker, mannaia oscura, coppia da maranto e poi altri due item da tank, che diventa una roba inchillabile, che silenzia, che fa un danno execute con la Suprema, veramente tantissima roba, vi consiglio di giocarlo, specialmente se vi filano top e dite oddio adesso che faccio. Garen è sicuramente un ottimo pick. Poi abbiamo Jax, che è un ottimo pick contro tutti gli autoattacker, contro chi va a buildare Hullbreaker, perché ve la fate anche voi, nonché con Demolish e Hullbreaker, tira giù le torrette, che è una bellezza, specialmente quando a un certo punto voi decidete che andate a tirare giù la torretta, roteate il lampione, provano a farvi qualcosa, ma voi ve ne sbattete e vi prendete quella torretta. Poi abbiamo Renekton, che è stato baffato, continua a rimanere molto solido, è un ottimo pick, non l'ho ancora provato con la build bella tankosa, però sembra essere interessante anche lui, considerando anche come in early game possiate snowballare e vincere la lane, se poi diventate anche, appunto, scusatemi, anche inchillabili, è veramente tanta roba. Poi abbiamo Malphite Shen, che ho fatto salire di prepotenza perché il meta è tank, più o meno, nel senso che ci sono ovviamente dei campioni anti-tank, tutti che vogliono giocare tank e tutti che vogliono giocare nuovi oggetti che sono broken se funzionano sugli AD carry, figuratevi, appunto, anche sui tank. Chiaro che avrebbero dovuto funzionare solo sui tank e dovrebbero probabilmente reworkare la coppia d'amaranto per fare in modo che funzioni solo sulle resistenze bonus, non che faccia diventare giganti tutti quanti. Ad ogni modo, detto questo, Malphite, specialmente contro squadre che non hanno tanto burst AP e hanno magari altri tank, hanno AD, eccetera, è una roba inchillabile. Shen fa dei danni o Shen, non muore, dodgia gli autoattacchi, si scuda, può avere un'ottima presenza sulla mappa e bello, bello, mi piace. Quindi Shen, tra l'altro, in generale è un campione che mi piace, quindi sono contento che sia salito. Wukong è sempre stabile, si cura tanto, ottimo late in fight, ma lo preferisco in jungle. Jace baffato, Jace è uno di quei campioni che, come vedete, è come se stonasse un po' tra tutti questi splitter, hullbreaker, tank e così via. Vero che potete buildare hullbreaker su Jace, potete buildarlo letality, ci sono varie build, appunto, che potete fare su di lui, ma è un campione che dovete saper giocare molto bene e saper soprattutto anche snowballare nei primi momenti della partita per poter iniziare a dare un impatto importante. Akali, skill champion, sappiamo quanto è forte. Riven era un po' indeciso se farla scendere o no, perché ci sono delle Riven letality, sicuramente quelle crit un po' di meno, che riescono comunque a fare tanta roba, arrivare a quel punto della partita dove hanno preso tanto vantaggio, ma rispetto a un meta tank non sono ancora sicuro al 100%. L'ho lasciata in S+, come skill champion, potrebbe però scendere in S. In S dove troviamo Urgot, che è stato aggiunto, appunto, con la patch 4.1. Non credo sia broken da S+, è sicuramente molto forte in un sacco di matchup. La passiva della Suprema, che potete fare l'execute, che è un buon 20%, considerando che ci sono tanti tank, è molto buona. E abbiamo anche l'engage che va a lanciare qualcuno indietro, che potrebbe prendere qualcuno fuori posizione. Quindi è un campione molto divertente da giocare. Se volete vedere il game dove l'ho giocato, lo trovate qui, insomma, sul mio canale. Poi abbiamo Gragas, giocato ibrido, tank, AP. Allora, lo vedo molto poco di recente, so quanto è forte, ma ho deciso quindi di abbassarlo in S invece che tenerlo in S+. Poi abbiamo Sion, che funziona una pasqua. Il buff nerf, diciamo che non credo l'abbia schiodato troppo da lì, perché comunque fa quello che faceva prima. Fa leggermente più danno, stuna un po' di meno, ma comunque funziona. Set, beh, non mi fa impazzire in questo momento, però ci sono persone che riescono a farlo funzionare come si deve. Poi andiamo a vedere che cosa c'è di nuovo in questa TRS. Abbiamo un mondo in Warwick. Mundo bello tankoso, sicuramente riesce a sfruttare bene i nuovi oggetti da tank. Dovete chiaramente scalare, dovete imparare a giocarlo come si deve, perché non è un campione che ha 8000 CC e correte, ecco, a bloccare la gente. Ma allo stesso tempo è molto divertente correre, appunto, però in mezzo alla gente, anche se magari non li fermate e non morire. E poi abbiamo Warwick, che forse è un po' una mirata alta metterlo in TRS. Perché probabilmente da tier A in C, ma, ma, è tipo, si cura tantissimo con la prima abilità. Il buff si sente, in top è molto divertente, non mi fa impazzire nei teamfight. Ed è per quello che forse lo vorrei abbassare in tier A, nonché contro alcuni dei campioni messi in TRS+. Ad ogni modo poi non riesce più a mantenere questo 1v1 potential. Però, insomma, è il suo. Infine, per quanto riguarda la A, siamo rimasti praticamente identici, tranne Tryndamere che scende, perché nonostante il tentativo di buff, è un campione che va a buildare critici in un meta di gente che va full tank, full armor, che magari si fa anche un Randwin e non muore nessuno. Quindi, guarda, purtroppo lo ho dovuto abbassare, poi, se siete dei mega Tryndamere player, complimenti a voi. Detto questo, andiamo a vedere la jungle. Qui in jungle, come potete vedere, a primo acchitto abbiamo una situazione particolare, perché in TRS ci sono veramente tantissimi campioni. Dato che, al momento, il meta funziona molto bene, c'è tanta varietà, non ci sono troppi int-pick, mi sembra un buon momento. Chiaro che la TRS+, sono i campioni che vedremo di solito più spesso, quantomeno in Aigelo. E, infatti, vediamo Wukong in cima, inchillabile, anchillabile, non immortale, si cura tantissimo, fa tanto danno, perfetto. Credo sia un ottimo pick, vi consiglio di giocarlo. Una nota, però, qui va su Diana, che one-shotta, come sempre, quindi se riuscite a snowballare nelle prime fasi, prima che tutti diventino tank. PS, qualcuno ha già giocato Diana Tank, non l'ho provata, quindi non mi sento di dire quanto e come è forte. Né mi è capitato di vederla né con né contro, nei molti gaming che ho fatto già nella patch 4.1. E poi una nota su Olaf. Olaf, con il true damage, sembra essere un ottimo pick contro questo meta, perché snobollate Nerly, fate true damage e correte in faccia alla gente. Molto interessante, come sempre, Stompanabi, non l'ho provato personalmente, non l'ho visto così tanto come magari mi è capitato tempo fa, quindi non l'ho messo in cima alla TRS più, rispetto a un Wukong che invece vedo costante, presente, immortale e molesto. Ma teneteci un occhio, insomma, provatelo e fatemi sapere come vi trovate con Olaf in questo meta. Abbiamo Gragas, classicone, one shot AP, Aatrox sempre straforte, Lilia è da tenere sott'occhio, perché? Perché ovviamente ha bisogno di quei suoi 2-3 item per carburare, ma parliamo di un meta dove le partite durano un pochino di più, tankano tutti un po' di più, quindi riuscite ad arrivare un po' più lontano in termini di minutaggio o cose del genere. Ma abbiamo un altro ma, cioè che è un campione che riesce a buildare HP, fa danno comunque percentile sulla salute dei nemici, che è considerato poi danno AP, è un ottimo counter per il meta tank, full armor, HP e cose del genere, quindi è un campione che può funzionare molto bene e infatti vi invito a tenerla sott'occhio. Poi abbiamo in tier S Nautilus AP, che ero indeciso se metterlo in tier S più e probabilmente sarebbe da tier S più, ma voglio provarlo con mano, perché Nautilus AP sia ibrido che full AP sembra funzionare una bomba, fa dei danni osceni, il buff della patch precedente sembra essere un pochino too much, viene giocato molto anche in competitive e quindi ve lo consiglio sicuramente un campione divertente. Noi abbiamo Pyke, del quale è già uscito un video sul mio canale di Pyke Jungle, che è tanta roba perché lo hanno buffato sia per la jungle che per la mid e sembra riuscire a snowballare molto bene, il true damage sulla Suprema è tanta roba, dovete soltanto un attimo gestirvi bene determinate azioni perché potete fare degli ottimi gank, arrivare velocemente e così via, ma allo stesso tempo è difficile che possiate andare ad invadere sempre o ad ogni modo dovete fare quell'in e out perché a volte se mancate mezza abilità siete crepati, però di solito riuscite a fidarvi in early game e questo va un po' a compensare con la sua mancanza di vita, è vero che è un assassin, però ecco imparate, magari guardate il video e fatemi sapere cosa ne pensate. Abbiamo Urgot che sappiamo funzionare in jungle abbastanza bene, anche se onestamente se dovessi scegliere e preferire giocarlo top, e poi abbiamo i tank che in questa casa sono Shen, Nunu, Amumu, Mundo e più avanti vediamo Rammus. Allora, Shen in jungle va una bomba, bello tankoso, riesce a fare anche tantissimo danno, ho visto delle scene di Shen full tank che shottavano la gente come se fossero fatti veramente di scatolette di burro, se così si può dire, Nunu ovviamente è un campione che funzionava già abbastanza bene, ma con questo meta tank si ritrova molto funzionale, Amumu con la triple burn, insomma adesso non so come si chiama correttamente quel tipo di build, che va invece di andare full AP va con questa build tankosina che fa danno intorno a sé, che va molto bene con la sua passiva, e sembra molto divertente da giocare, e Mundo che come abbiamo menzionato anche in top sta andando molto meglio di rispetto a prima, specialmente grazie a questi nuovi item da tank. Rammus l'ho messo un po' più basso di loro perché funziona bene, anche lui ha beneficiato molto degli oggetti da tank, ma come sempre rimane funzionale contro una squadra un po' più full AD, perché come è proprio pensato il suo danno, che è un riflesso appunto del danno, rischiate che se lo prendete troppo presto e vanno a prendere un sacco di AP, rimanete fregati e vi sciottano. Un'altra nota importante che voglio fare è su Kayn che è stato buffato per la versione blu e leggermente nerfato per la versione rossa, quello blu non si vede praticamente nonostante il buff perché se tutti giocano tank e giocano melee è molto più difficile riuscire a giocare un campione Lethality che è forte contro i ranged, a questo punto vediamo molti Kayn rossi che hanno quel danno in percentuale, si curano molto, durano a lungo nei teamfight e quindi sembra funzionare veramente veramente bene. E sono, ero anche tentato di farlo salire un po', ma aspetterò un attimo durante questa patch e vediamo nella patch 4.1a che cosa invece succederà. Poi ho fatto salire Gwen in tier S dal tier A perché non mi fa impazzire per la jungle e scala un po' più lentamente, ma allo stesso tempo vale il concetto di Gwen top, cioè contro i tank è tanta roba, va a scalare true damage e tutta quella soul fall lì e in jungle se adesso la partita è diventata tutta un po' più lenta, un po' più tranquilla, riuscite a farcela anche voi, infatti come ho detto anche prima abbiamo una tier S un po' più popolata. Se poi andiamo a vedere invece in tier A un campione simile potrebbero essere Camille, Fiora e Jax, che però in jungle, nel senso se siete forti, se li giocate, se sono la vostra ecco crema di quei dei pick che andate a fare, funzionano comunque molto bene e poi fanno quello che farebbero da top laner, però devo dire che ci sono pick migliori secondo me in jungle al momento. Per quanto riguarda il tier B niente di cambiato, nota su Kyle Jungle che ho riaggiunto anche su questa tier list che avete visto è cambiato, c'è stato un problema sul sito la volta precedente, che funziona ma se vi invadono vi devastano, ma se arrivate in late funziona. Ma detto questo, andiamo a vedere la mid. Ed eccoci nella mia lane, anche se tecnicamente sto giocando un pochino più ad carry di recente, ma ve ne parlerò durante la tier degli ad carry perché, mamma mia, se non avete visto qualche mio video, adesso ne parliamo. Dunque, detto questo, vediamo Pyke in cima, lo hanno baffato in una maniera assurda. Io ci ho già giocato due o tre partite, mi sono fidato sempre. Poi magari ci sono state dei throw in late, oppure ho fatto delle cavolate io, o chissà, insomma, mettete un momento di throw qualsiasi, ma funziona una bomba. Se volete pulire la lane nel momento in cui ci riuscite, lo fate in un attimo perché adesso riuscite a fare tanti danni ai minion. Rommate in un secondo, dato che avete l'invisibilità potete doggiare lo scattolo, potete doggiare tutte le world tranne le pink, quindi vi vedono arrivare all'ultimo secondo. Tanti rom, tanti gank, una roba assurda, veramente, veramente forte. Zoe l'ho fatta salire perché l'avevo promesso, che l'avrei fatta salire perché è molesta. Per fortuna con questo cambio la si vede un po' di meno. In realtà funziona comunque una bomba, ma meno la vedo, meglio sto. Diciamo che contro certi tank ci mette un po' di più a carburare ed è forse questo il motivo per cui la vediamo di meno. Poi abbiamo Akali che, come sempre, va una bomba molto forte, molto skill champion. Diana, già lo sapete, non c'è neanche bisogno di sprecare tempo su di lei. Yasuo, eh, di base è un campione che riesce a fare dei danni altissimi. Con il critico la situazione è un po' me, considerando l'armatura, considerando eventuali oggetti anticritico, ma allo stesso tempo tra la penetrazione che potete comprare e quella che vi dà la Suprema, riuscite comunque a fare abbastanza danno. Però richiede un pochino più di skill rispetto ad un tempo, secondo me. Poi in TRS più rimane tutto invariato, c'è il Corki che voglio menzionare. Il Corki Tank, sì, Corki Tank. Se volete vedere di che cosa sto parlando, ci ho appena fatto un video di recentissimo. L'ho giocato AD Carry, ma si può giocare mid con la stessa identica build che va una bomba, quindi ve lo consiglio. E ne parleremo poi di nuovo durante la fase degli AD Carry, durante la tier list, appunto, degli AD Carry. Andiamo in TRS, dove vediamo Jace con la stellina perché è stato buffato. Semplicemente era forte prima, è leggermente più forte adesso. Come per la top è un campione che dovete snowballare perché siete comunque un milia di mid in un meta di tank. Se non andate full letality, se non shottate tutti, se non snowballate, rischiate un attimo che non riuscite a farcela. Ma se siete forti con Jace, se lo sapete sfruttare, va una bomba. Poi vediamo Singed che sale in TRS, è ritornato un po' in auge con la sua build da tank che brucia, che corre in giro, bello molesto, comunque come tank AP ci può stare. Ecco, vi direi, scegliete il giusto matchup perché altrimenti la situazione potrebbe essere un po' complicata. Sicuramente contro milia di mid, contro campioni che di solito vedete in top o cose del genere, può funzionare. Ma occhio contro Pyke che fa un danno osceno al momento in early game e potrebbe iniziare a uccidervi e a outromarvi prima ancora che voi possiate pulire la corsia. Detto questo, andiamo a vedere invece il tier A, dove ho fatto scendere Zeri in fondo al tier A perché non la si vede più mid praticamente, se non in qualche competitive game dove vanno a sfruttare una comp differente. E poi Urgot mid che ho piazzato in tier B perché non è proprio buono in mid. Cioè l'unico momento in cui diventa buono è se c'è un campione della top. A quel punto è come se fosse una top giocata in mid e allora può funzionare, ma contro maghi, contro ranged, contro roba del genere, non riesce ecco a predominare come lo fa invece in top. Ultime tre note abbiamo Teemo in tier C che sta lì sotto, non lo gioca da mid per l'amor di Dio. Poi abbiamo Kyle che mi piace moltissimo come sapete, ma che vorrei provare con una build un po' più tankosina proprio sulla scia di questi AD Carry che vanno a tankare, che sembrerebbe funzionare comunque una bomba. E una cosa invece che volevo menzionare è da tenere d'occhio Brand. Brand che allora ha una build che riesce a fare molto danno anche ai tank, specialmente con la maschera, però dovete sopravvivere alle lane phase. Se siete Brand Player sapete sopravvivere alle lane phase e volete massacrare tutti questi tank grossi con la build appunto corretta, andando anche a buildare questa maschera, questo danno in percentile, potete farlo, ma è un po' situazionale come pick, dovete essere bravi ad utilizzarlo. Ma detto questo andiamo agli AD Carry che c'è proprio la chicca della tier list. Ma che cosa abbiamo qui in cima? Varus AP, sì, lo hanno baffato, non aveva senso, cioè non serviva, non c'è, perché hanno baffato Varus AP? Non si sa. Fa dei danni oceani, l'altro giorno camminavo tranquillamente nella landa, ero anche abbastanza fidato con il mio campione top, non ricordo se fossi Urgot o qualcos'altro, mi tira una freccia dopo avermi tirato tre attacchi basi, mi tira questi tre attacchi basi, io nel cielo, vabbè dai, non mi ha fatto troppo danno, mi tira una freccia. 90% della mia vita, levata, una singola freccia per la passiva AP. È una roba oscena, quando avete la suprema, suprema, attivate la seconda abilità, tirate una freccia e qualcuno muore e funziona una bomba. Sì, vi possono prendere, quello vale, però quello che valeva anche prima con Varus, ma in termini di danni è una roba assurda. Poi andiamo a vedere Vayne e Corki. Corki l'ho messo in alto perché, cioè vabbè, allora parliamo di Vayne prima. Vayne anti-tank, meta-tank, boom, perfetta. Ma in più abbiamo anche la build di Vayne tank che va a costruire come Corki parte, insomma, con una build particolare. Lei in questo caso va con il 3D Force, la Witsand o la Botker, poi va con la Wormog, poi la coppia da Maranto e poi l'ultimo item, non importa perché tanto avete già vinto il game, ma fate quello che vi pare. Alcuni fanno la BT, altri fanno un altro item da tank. Non importa veramente niente, specialmente se poi avete un support con l'incensiere ardente che vi dà l'attack speed, andate appunto una Pasqua. Corki, vi ho fatto uscire il video di Corki Tank, cioè di Corki Tank. Mamma mia, lo sto spammando, lo sto letteralmente spammando tipo 65-75% di win rate. Continuo a giocarlo, faccio partite da 40-50-60k damage, non mi uccidono, mi diverto tantissimo e ve lo consiglio veramente tanto se non avete visto il video che trovate appunto nel mio canale ed è super super recente. Poi abbiamo Luzian che è stato buffato, un buff non particolarmente enorme, ma è comunque un campione che funziona molto bene, in early game tanti danni, un pick sicuramente che vi permette di snowballare e ve lo consiglio senza problemi. Poi abbiamo Ezreal che anche lui sto provando con una build tank perché è stato visto anche su di lui, la sto studiando meglio, quindi per lui ancora non vi dico niente, nel caso uscirà ovviamente un video. Kaisa funziona una bomba con la sua passiva, un hyper carry, ci sta anche contro questo meta attuale perché comunque danno a P percentile di HP, tanta roba. Zeri e Tristana, hyper carry che vanno a scalare, riescono comunque a funzionare nonostante il meta attuale, quindi molto bene. Samira era un po' indeciso perché in lane snobbolla tanto, fa tantissimi danni e funziona una bomba. Se però restate ecco in quel momento pari dove non prendete vantaggio e cose del genere, iniziate a faticare un pochino nel late game e nel mid game perché ovviamente se ci sono tutti i tank che non vogliono potrebbe essere un po' complicato. Sicuramente la build con la mannaia oscura e altra penetrazione può funzionare specialmente con un bel cast di Suprema se ve lo lasciano fare. TRS che rimane invariato, Jinx ha ricevuto un piccolo buff ma non è così importante da farla salire o scendere. Una nota su Caitlyn che è funzionale nonostante il nerf che ricevete un paio di patch fa. Jin mi preoccupa un po' perché potete snobbollare tanto ma quando siete contro magari determinati tank molto troppo grossi e non avete snobbollato, ecco sembra faticare molto di più a scalare di altri AD carry. Draven come sempre situazionale come pick, se siete dei Draven OTP, Draven player che lo sanno giocare molto bene, buon pick, altrimenti se dovete scegliere un AD carry da giocare ma non giocate ancora a Draven, non iniziatelo adesso, non è il suo momento migliore. In tier A sale leggermente Ash come Vayne Counter che vediamo più spesso e scende Senna come AD carry, mentre come support andremo a vedere che ha un posizionamento differente. Ma detto questo appunto andiamo a vedere i support. Ah che bello, Yumi support, quanto la odio. Io la banno sempre e continuerò a bannarla finché non arriverà un bel rework come quello di PC che la renderà inutile, nel frattempo la odio con tutto me stesso. Già era forte prima, figuriamoci adesso se la mettete sopra gente che non muore e che cura tantissimo. E infatti quando ho giocato con Yumi, mentre ero Corky Tank, ero Dio, nessuno mi poteva uccidere, è stata una roba assurda. C'era uno FK, abbiamo vinto lo stesso perché tanto io non morivo. Quindi bannate Yumi o giocatela e abusatene ovviamente per fare easy rank. Poi abbiamo Karma, sempre stabile, sempre molto forte, sia in Hegelo, sia in Competitive, sia in Ranked, sia in Legendary. Dove cavolo vi pare? Funziona una bomba. Trash, counter di Yumi e High Skill Sealing Champion. Quindi funziona una bomba, ve lo consiglio. Mi diverte tantissimo giocarlo, nonché Meta Tank. Va a scalare tantissimo considerando anche le animelle che andate a prendere e poi prendete una bella coppia da Maranto, diventate immortali. Pyke una bomba, Pyke buffato, va tantissimo, piccato tantissimo, funziona molto bene. Potete anche romare verso la mid e aiutare con altre uccisioni molto velocemente, molto facilmente. E quindi adesso diciamo che è un po' un hot pick Pyke, lo si vede molto spesso, sia bannato che piccato. Poi andiamo in TRS dove Nautilus sale in cima al TRS, è piccato molto di più, lo vediamo comunque più presente in Jungle che in Bot, ma funziona una bomba. Poi abbiamo Senna che è stata alzata perché riesce a scalare più facilmente. Perché avendo un Meta di Tank, comunque le partite durano un po' di più, lei riesce a scalare, cura tanto, cura i propri Tank. Una situazione positiva per lei. Eviterei comunque di far spiccarla, eviterei di prenderla quando ci sono, ad esempio, Mago Mid, AD Carry Bot, perché già così hai solamente due melee, due Tank, cose del genere. Però se già hai un bel fighter mid o qualcuno di melee in mid, anche una Diana o un campione che sta appunto melee, la mischia in mid, la potete prendere, rimanete in backline, curate tanto, rallentate anche con la prima abilità ormai da un paio di patch e funziona quindi molto bene. Poi abbiamo Alistar che supera Rakan perché funziona comunque molto meglio in questo momento dato che siamo appunto in questo Meta di Tank, lui può buildare Tank. Rakan è una bomba, c'è un playmaking potential incredibile, è un campione super divertente, sapete quanto mi piace giocarlo. Però il concetto è che se voi giocate contro tanti Tank, anche se fate la combo perfetta, se non avete abbastanza follow-up damage e il fight dura di più, ecco, ha quell'impatto leggermente minore. Alistar invece attira molto l'attenzione, tanka tantissimo, tanka anzi ancora di più di prima e quindi l'ho fatto salire leggermente. Gragas e Galio Tank salgono oltre gli enchanter per lo stesso ed antico motivo, Meta da Tank che funzionano molto bene e poi abbiamo Soraka che ho fatto salire in TRS perché sì, i fight durano di più, il Metal la promuove molto meglio, è stata anche baffata e sembra funzionare molto bene in questo momento. Chiaro, non è da face pick, cioè da face pick, first pick, scusatemi, come se niente fosse, ma nelle giuste team composition sembra andare molto bene. Una nota su Leone e Brom che sono, era un po' indeciso, cioè non potevo mettere tutti in TRS e come sempre li vedo quel tantino meno forti, cioè nel senso ci sono dei game dove Brom è perfetto, è assurdo, scudone, passiva e tutto quanto, in altri in cui invece mi sembra un po' faticare. Leona allo stesso modo tanca molto bene, ma ci mette un po' a carburare ed è l'unico motivo per cui l'ho messo in TRS, ma in generale mi piace molto, specialmente se siete Loelo e volete ingaggiare, è un ottimo champion per farlo. Infine abbiamo Blitzcrank che ho abbassato in fondo alla tier list, per ultimo non lo dovete giocare se non siete Paolo Cannone. Siete Paolo Cannone? Smurfate sulla gente? Bene, giocatelo, altrimenti non servite a un cavolo perché se grabate un tank che gli fai in favore? Gli fai visto che pure gli AD Carry sono tank, cioè mi grabbano con corchi, sono tipo lì ok grazie mi hai attivato il buff, inizio a menare tutti. Quindi onestamente non mi piace per niente nel meta attuale e in generale uno skill champion molto particolare. E se devo giocare a grab mi vado a giocare il trash del destino. Ma detto questo ci siamo, io come sempre vi ricordo che regalo un sacco di roba, un bel po' di giveaway di cose del genere in live, perché è il mio lavoro attualmente, campo di quello, quindi se venite magari a trovarmi, a fare un Prime o roba del genere che è gratis e può supportare il canale, aiuta molto. Detto questo io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, tutte quelle cose di YouTube che aiutano con l'engagement e che mi fanno crescere e potenzialmente continuare a fare questo lavoro. Vi ringrazio specialmente se siete arrivati a questa parte del video e lasciate un emote magari particolare, un emote di qualche frutta, una limone, una banana, quello che vi pare, una qualsiasi emote di questo tipo. Vi auguro una buona serata, delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.